Una delle più affermate bellezze a livello italiano ed internazionale, ormai molto seguita sul web, è anche blogger e influencer. Valdostana di nascita vive e lavora a Dubai, conosciamo allora Alice Veglia. Modella dall'età di 16 anni, oggi vive e lavora a Dubai. Molto attiva sui social, dove conta centinaia di migliaia di seguaci, Alice Veglio, 24 anni, una ragazza del suo tempo, che fa della bellezza il veicolo per trasmettere e comunicare il benessere e valori positivi. Recentemente ha ancora ricevuto un importante riconoscimento. La scorsa settimana ho ricevuto una chiamata direi del tutto inaspettata dall'America, quando sono stata nominata Miss Multiverse Italy. Di che cosa si tratta? È un concorso mondiale, uno dei più importanti che ci sono nel mondo. Oltre a valutare canoni prettamente estetici di bellezza, si valuta anche l'intelligenza, la capacità imprenditoriale di una ragazza, i suoi valori e le sue capacità fisiche. Da Gignot a Dubai il percorso non è così facile scontato. È stato per me un percorso lungo, direi non facile, che mi ha portata a mostrare al massimo la mia determinazione e motivazione di andare avanti. È nato tre anni fa, quando per la prima volta sono andata a Dubai in vacanza. Mi sono subito innamorata di questa città così veloce, così dinamica, così attiva dal punto di vista imprenditoriale. Dopo una serie di stage presso enti e uffici governativi, finalmente Alice ha trovato stabilità nel lavoro. Quest'anno ho avuto un incarico, quindi un'assunzione ufficiale presso la Dubai Carbon, che è questo ente che si occupa di sostenibilità ambientale, salute e quindi ho il mio ruolo all'interno di questo ufficio ormai ufficializzato. I social sono una parte molto importante della sua vita e Alice ha le idee molto chiare sul suo ruolo di punto di riferimento per le migliaia di ragazze che la seguono. Per me rappresentano il più potente mezzo di comunicazione, in quanto tale può essere pericoloso e delicato mostrarsi sui social, in quanto traspare solo un lato marginale della nostra persona. Mi rendo conto che tante ragazze mi seguono, magari prendo un esempio e di questo ne sono onorata, ma cerco di trasmettere sempre dei modelli positivi, in una società in cui si tende a basarsi solo sulla superficialità delle cose. Nel mio lavoro, adesso ho anche lanciato il mio fitness programma online, cerco di dare del valore aggiunto alle ragazze, quindi non mostro semplicemente degli esercizi corretti da svolgere o degli schemi nutrizionali validi da seguire, ma propongo alle ragazze uno schema di vita capace di valorizzarla al meglio, iniziare a vedere i social anche come un mezzo comunicativo un po' più profondo che non solo le immagini.